Mi trovo sul Ticino, una punta che sto cominciando a sfruttare io per primo là sopra, quel bel terrazzo, i sassi abbastanza imbricati, ben orientati, ricchissimo di granati. C'è un problema però perché qua l'acqua è ferma, non corre assolutamente, non corre acqua caspiterina e allora occorre adottare delle tecniche di sopravvivenza. Quindi concentro il materiale col mio piatto Ken Carson da gara, lo concentro, lo arricchisco, gli do una seconda passata, una lavata a Goldwitz e si sta dimostrando buona su loro fine, in fondo già si vedono le prime pagliuzzine, ce n'è dentro, ce n'è, ce n'è, ce n'è. Ne raccolgo una prima porzione qui e poi lo metto a metodo in questo secchio perché mi prenderò un'oretta, un'oretta e mezza prima di andare via per passare il tutto con la canaletta, con la canaletta Caledonia, perché un chilometro circa qui più a monte c'è un bel rasco, una bella rapida e ne approfitterò per poterlo utilizzare e sfruttare quella rapida e lavare l'iperconcentrato che ho fatto di prima, si è adottato tecniche di sopravvivenza per rimanere nelle regole e per divertirsi. Ciao Techidore, qua c'è, lo dico io, Caldeshmi.